Eccoci pronti per la partenza, già siamo inguaiati così eh, per risparmiare, guarda, guarda la bionda, la bionda è nuova qua. Il nostro gruppo, 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 è giunto l'ora di imbarcarci per una nuova avventura, che sa che succede? È più meglio da buono, questo navica proprio tanto della quale, a dove sto, a dove sto? Non volevo proprio il tofu, il tofu. A generale devi fare due fotografie. Non ho portato la macchina. Meno male, meno male faccio i soldi. Eh, mi parli di comparsa. Oh, meno male così faccio i soldi. Ma pure è più, dai cari. Ah, sono, coltenzo, colci, fricca, rani. Ma pure è che era, c'era un pagamento molto finanziario. E però io la mattina stavo che dovevo andare, perché molto, ci sono tanti che assimassi. Vedi? Se vuoi fare la foto, schiacci qua una volta. Ok, solo il rostro per fare video. Che abulite, signori? Niente. Siamo a Procida. Siamo a Procida. E infatti ti sto riprendendo. no quello lo fai tu finalmente approcida ce l'abbiamo fatta per entrare in chiesa la 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 Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Adesso me lo devo vedere il postino perché io non l'ho visto. Grazie a tutti. 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 Chiamo la tua moglie.